e salva a tutti i ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video tutorial ebbene sì ci sono voluti oltre quattro anni ma alla fine sono arrivate mi riferisco alle chiamate e videochiamate di whatsapp sulla versione desktop la funzionalità infatti disponibile su android e ios fin dal 2016 ma solo di recente sono iniziate a circolare le prime informazioni riguardanti l'approdo sull'app desktop probabilmente però l'accelerata è stata decisa dopo aver dato un'occhiata ai numeri fatti registrare a capodanno 2020 un miliardo e quattro di chiamate vocali effettuati in un solo giorno un record assoluto fatta questa breve introduzione vediamo finalmente come effettuare le chiamate e le videochiamate di whatsapp direttamente su pc innanzitutto è necessario cliccare sul link che vi lascerò in descrizione così da essere reindirizzati sulla pagina ufficiale di whatsapp dopodiché è necessario cliccare sul pulsante scarica per windows per scaricare whatsapp desktop per effettuare le videochiamate sarà necessario essere in possesso di un pc o di un mac che soddisfi determinati requisiti come avere windows 10 a 64 bit versione 1903 e successiva oppure avere mac os 10.13 e versioni successive nel caso in cui non soddisfiate tali requisiti c'è comunque una soluzione basta installare un semplice emulatore ho realizzato un video riguardo vi lascerò il link nelle schede qui in alto e in descrizione una volta scaricato whatsapp desktop avvialo e clicca su esegui adesso è necessario prendere il vostro smartphone in questo caso io ho android aprire whatsapp cliccare sui tre puntini in alto a destra e dal menu a tendina scegliere whatsapp web inquadrate il codice qr e in pochi secondi sarete connesse a whatsapp desktop adesso vi basterà aprire una qualsiasi chat e tramite gli appositi pulsanti avviare la chiamata o la videochiamata tramite la nuova funzione si potrà interagire più facilmente con i propri colleghi o familiari visualizzandoli su uno schermo più grande come può essere quello di un pc o di un notebook le chiamate desktop sono state progettate in modo che funzionano sia con l'orientamento verticale sia con quello orizzontale la schermata della chiamata apparirà in una finestra separata e ridimensionabile che rimarrà sempre in primo piano sullo schermo del computer con questo ragazzi il video è giunto al termine vi invito a lasciare un bel mi piace al video commentare se qualcosa non vi è chiaro e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche presente lì di fianco così da non perdervi i miei prossimi video detto ciò ci vediamo ad un prossimo video ciao